Saluto a tutti, ci siamo rammutati qui in Nasco per parlare di ricchezza in Corsica e delle animali salvatiche. Allora sapete di voi tanto 40 anni un barco regionale ha una politica per provare a salvare questi animali. Allora in giro a me tutti questi anziani impiegati nel barco regionale ci sono che sono ritirati, ci sono sempre in servizio e poi io non vedo a scherzo. Allora ho Francesco Orsetti che si è occupato di un cerco durante più di 30 anni, Domenico Graziani che ha lavorato durante la muvra, durante l'altore, hanno lavorato parecchi animali, anche a Fransi Mercuri che è un anziano che abbraccio, poi vedo quindi tutti che hanno campato qui con gli animali salvatiche. E poi a Gioia Maria Domenico ci chiedono conoscete tutti i travagli in scandalo, l'antana alpana, che non capiscono mica le belle pescezze. Allora oggi ho scorsi di mostrare, abbiamo pochi film che abbiamo fatto con la televisione corsa, i pochi trent'anni abbiamo filmato questi animali e poi abbiamo mostrato pendente dunque queste emissioni. Allora come stiamo facendo un affare a muvra, più se abbiamo cominciato a muvra, siamo un nasco, dunque qui un locale a muvra si può dire. E qui che l'ha campato, perché l'ha campato sempre, c'è un becci animale a muvra in Corsi. Sì, a muvra l'anno e l'anno che l'ha agita, per centinaia anni che l'ha aiuta in Corsi. Ma poi si è radicata qui e si trova qui e si trova verso la villa. Ma più che si trova, io sono qui, io avevo l'abbastanza abbatta e io l'ho con due giorni di più. Allora, cresce o non cresce, cresce, sono cresciute, sono cresciute appena, mica così, non so mica che si basta. Da pressa mene c'è troppo or, perché si mangiano gli angeli quando le figliano. C'erapea avere storia appena s'affare, ma ricordo in 75 abbiamo fatto un conto e ne abbiamo conto io 150 qui. Allora di poi c'erano 1000 o 1500, se c'erapea arrivato un conto per sapere quanti lucini... uno che è sparto qui? uno che è sparto, è abbastanza apparto qui ma io ho una piccola o una capra? bene, a Mufra fa la piccola una piccola? una piccola, io ho una piccola serbatica io ho un mufrone, un mufrone a Mufra sono animali serbatici che fanno la piccola ma perché campano in montagna? perché in piedi non c'è mica? perché sa di qui, è come fare le vocevoli hanno campato in piedi, forse si è cacciati dopo hanno chiamato in su e dopo si sono caricati nelle nostre montagne non sono più falati allora fanno appena quando non aveva appena tanto vanno all'altitudine 800-700 metri ma dopo a Stadina rigolano rigolano per mangiare l'erba fresca seguite le stagioni? seguite le stagioni allora all'inizio quando hai cominciato il barco non diremmo mica quando? 70 ui 70 ui chi era il primo capadoggio che è il barco d'auto quando avete prescindato un corso di camufle? chi era la prima ora tanto? tanto la prima ora era di brutteggio le brutteggio e sorvegliarle con l'arma passavamo le giornate sane qui a sorvegliare i muri con talle, a bere quando le viano, quando le accoppiano perché c'è tutto un programma di cose non c'era mica bruttezione tanto? tanto c'era mica dopo hanno cominciato a brutteggio e come un po' dove cacciavano qui e giusto appunto ma dopo hanno dato eh? e ma tu poi poi mi ricordo c'è i ritratti si vengono io ho anche i bastoni qua ai muri e a volte che i capi di macchia delle case ma allora perché oggi si può mica cacciare oggi si può mica cacciare oggi per un momento è sembrigliosa la caccia perché non c'è mica si vorrebbe avere appena il tombacca a chi macchia ma mica femmine ma per un momento la caccia non è mica parte voglio che quei vucili che c'è oggi se faccio la tomba e muovere e poi la muovere è massa non è manco troppo i serbati quando voglio avvicinare e faccio la coce ho fatto che i bastoni non siano più montagna ha cambiato qualcosa per la muovere che le siano sparite quando i capri di picore in questa montagna c'è stata un'influenza se che un mese si chiò è un po' più pace le animali questa sì che faccio piani di macchia n'ignore quando c'erano i capri sai che i capri puliscono mica con la picore la picore c'è sempre l'arba ma la capri c'è sempre a mangiare a legge all'arbitro a scopa ma ciò che c'è che la sparizione di cose di bastoni è piuttosto ne balleremo dopo possiamo ballare dell'altore perché animali in montagna ce ne passano più non c'erano le vande le vande le montagne poi c'era l'uomo ci sono che c'erano parecchia capri parecchia bico parecchia montagna capisci tanto c'erano mangiare anche per l'arba a prova che va a piazza di cosalla l'artore diminuisce siamo piccati alla mangiare siamo piccati alla mangiare non c'erano mica bisogno alla mangiare ne parleremo ma il turismo prima di averci vinto a Mufra il turismo ha avuto un'influenza di Mufra l'evoluzione a Mufra qui tutti questi standacciani a stadina che girano le montagne no la Mufra si viene abbastanza è abbastanza scattata di cose sono ragionate a certi l'arba dove ci sono più a foresti valdognilo più a schese più a pastadina più a Paglia Urba o da fonato questi ci stanno un pastadino fresco dopo 40 anni di politica di protezione oggi a chi ne siamo la salute a Mufra oggi a chi ne siete oggi io trovo che io se ne aveva abbastanza appena di gno con Mufra capisci sono cresciute ma sarebbe a contare come abbiamo contato con la gente 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 con noi e cacchi civili con noi e facciamo i pezzi di terra c'era una pulitura di protezione infatti allora c'è sempre la pulitura di protezione c'è sempre allora ti propongo ti ricordi che abbiamo girato ore giornate a presa queste mufra per firmare abbiamo straziato abbastanza abbiamo straziato anche tutto anche noi allora mi propongo giusto appunto di rimanere appena andrete di bere giusto appunto questo film che è andata Mufra in Corsica a Mufra c'è una becua e un montone serbatico la morfologia è appena più grossa che quella becua e quella è un montone le gonne è già più grosse che quella è un montone le gonne è basse e parte di nuovo due pezzi sono tocchiate in daredo e le gonne è un fanno basso 85 centimilongo ti rendi conto quando si esibuiamo stanzati da misurare è un belame a stradina di appena valo bruno e falo l'ingverno il belame diventa appena più nero a femmina se tu boi è bianca sotto il corpo ha anche le gure e la pena faccia e un maschio che ha l'antovio spino che ha una colore che fa fino a lì è come una sella di cavallo di stessa ma ora se tu boi c'è una di bianca dopo a forza di se cacciate c'è un po' in su in montagna se tu tui mangiano le giarine ciò che la c'è che ho più è dell'arba dell'arba sai dopo vanno in inguerno vanno in inguerno quando c'è come c'è lo spa può mangiare le frasche di lecce mangiare l'arbitro e vogliono l'arbitro e punta di scopa e aianda 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 scimicciante aianda gli piace e buttano i piedri russpano che ambe e cercano a vivere l'arba in fenducirà i piedri su tutte le ragine da ottobre a dicembre fino a dicembre affacano i maschi che entrano in in inguerno quando accoppiarsi cominciano a minarsi dai certe capate ho pieno i cosi vediamo le nari si picchiano i capi ma si sentono un po' all'altro perché si vanno per avere avanti 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 cinque mesi dopo cinque mesi ho messo a aprire maggio cominciano a figliare e faccio gli uru ma gli uru tamponato cominciano a apprezzare la mamma capisci non come il giovane che c'erano a mamma a cura per pochi anni quanto si mette in banda e dopo partono tutti in banda perché c'erano le femmine dell'anno non anzio e degli anni vato formano tutta una famiglia tutta insieme tamponato c'era con sarizzo e poi cerca sud come beco quando nasce l'angelo sarizzo subito e cerca sud oggi costa 5 6 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 7 8 9 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 15 15 16 16 16 17 18 16 E quando c'è il pericolo, quando c'è il pericolo, cominciano a siffiare e a picciare i bigli. Poi facciano un'antemonte, facciano un tiocco, ma hai capito? E picciano, e fiscano. E quando fiscano, tutti i muovri sottinati, sarizzano e fuggono. Hanno l'occhio, hanno l'occhio e l'orecchio. Sai che l'animale gli ha ostito? Quando la dani va a sanno, se ne fanno. Da qui in 1000-1500 se ne fanno 800. E questa è limitata da neve. Hanno anche vino. Hanno anche vino, altrimenti soffrono. E la 20 anni viene al corpo, ovvio. Un po' è un bucavuglia, poi ogni tombale faccio la mente. A muovra qua, come c'è andato bene, ne trova appena di neve. Tutta la regione del Montecinto, il Valdognello, verso la Guaiaurba, verso l'Illa, il Davonato, l'arri del Davonato. La stadina cerca di essere fresca. Quando si è riuscita da Gambawele a Nasco, perché si spargliano mica? Perché c'erano bucchi, perché li tiravano. Non ne era un po' di spargliarsi. Invece qua si sopprudette e si cominciano a bere la palla di Newo. spero che ci siamo occupati di noi perché noi ci siamo occupati che sia il muro, che sia l'altore, che sia l'acqua, che sia l'acqua, che sia l'acqua, che siamo occupati di tutto a noi perché toccavamo tutto siete contenti di pastalaccia? a me mi piace, a me mi piace perché tu anche devo essere che ci sono più ammolite ma non tuoi adesso perché da parte lasciatevi a ciò e quanto è un bel animale questa muvra? questa muvra è un bel animale, come l'ha detto il romano, ci sono qui in Nasco e ci sono in Boveda ma di noi sono un po' differenti le troppe, perché Boveda è un luogo straordinario dove ci sono montagne alpestri, la muvra è più lunga di solpede che qui in Nasco è più chiara, no? è più chiara e poi i corni sono differenti sono più larghi e poi non è mica il senso capullario, qui non è mica come noi qui è una regione di Boveda, si chiama Lardieto, per parlare di Umascio si dice Amuvra per la Vemmina e si dice Uaccio, poi giù, invece che in Nord è Umuvrone, Amuvra e Amuvrella allora ti ricordi che eravamo nel 1970 aspettati un elicottero? Allora chi era? Contami era un'ora di novembre 1985 erano andate un'equipa dopo parca a piedà quattro cerve in Sardegna ma ciò che ciò a sapere è che parlare quattro cerve tanto non era mica un piccolo affare le trattazioni in cui l'Italia e la Francia, posto che noi eravamo 92 paesi differenti, hanno durato quasi 10 anni ma perchè si è andato in Sardegna a scopo Ucervo? perché Ucervo, in Sardegna, Ucervo che si trova qua, si chiama, agli altri in latino Cervus e la Fus Corsicanus Corsicanus vuol dire ciò che lo vuol dire, Corsica ma non ce n'era più quindi noi erano spariti completamente l'ultima ronca, la ronca è a Vemmina di Ucervo l'ultima ronca è stata a tumba nel 1960 nel Voresta di Pinia, vicino a Casabianta erano smariti completamente i cacigliani i cacigliani, i bracunani ma erano per mangiare l'ultima ronca e dunque i sardi hanno avuto bene dopo aver visto che il progetto era un progetto serio dacci quattro cervo ma sicuramente hanno avuto un problema subito appena cominciato quando noi siamo venuti in quei cabbie in cui, intendo l'elicotteri dalla base di Solenzar che ci ha portati i cervi da Sardegna a Quenza quando il cervo ha scesciuto dalla cabbia non la sappiamo mica ma è stata dopo visionendo i film che non abbiamo potuto vedere che si era tronco un gollo e faccio che il progetto se voi volete ha perso due anni perché il cervo era troppo più per poter accoppiarsi in quei vemmini faccio che i due primi nascenzi non hanno avuto sono giunti due anni dopo e da tanto abbiamo cominciato il principio è stato rasticato abbiamo cominciato l'allevo dei cervi in Quenza allora in vent'anni di politica oggi fammi un punto oggi che ne siete? oggi penso che i cervi ce n'è abbastanza è un progetto che ha marchiato è una maraviglia ci sono le enti sono venute da un mondo entiero per vedere i cervi in corso che sappiano tutto andando a un cervo di corso e un anno mai visto ma l'hanno visto con le richiuse che noi stavamo in Quenza in Casabiano in Nania e sono stati veramente contenti di vedere questo animale che ha una taglia più minore che un cervo dei continenti per cui un mascio del nuovo quando lui ha 130 che era 140 è molto un cervo e una conca poi lui ha 80 100 è più che i cervi dei continenti per le quali le hai fatte le chiostre le hai fatte le chiostre due erano le chiostre le chiostre una era in Quenza la comuna ci ha dato 33 e abbiamo fatto uno richiuso ma più più minore erano mezza libertà diciamo allora a seconda quando era? a seconda l'hanno fatto quando non avevamo abbastanza un richiuso di Quenza l'hanno portato in Casabiano il ministero della giustizia ci ha messo a disposizione tanto un richiuso di Rintettari e abbiamo potuto continuare a lavorare e dopo nemmo fatto un'altra mezza montagna non vi un morbo in Agna e dopo piano piano la prima cappiata è stata fatta in Quenza boh era un affare che era normale dell'interlinquenza apposta che era nell'interlinquenza e nemmo l'entato una vintena in 98 allora a posto che io vediamo che ne parla mica oggi c'è un castigo c'è gente che si pianghe e dice che facevano gli evoast allora allora a me penso che siamo vicini a 1300 o 1500 cerve in Corsica è una maraviglia è una maraviglia ma solamente quando nemmo cominciato il progetto è questo che ho a dire quando nemmo cominciato il progetto tutti gli enti che hanno partecipato al progetto che siano i cacciatori le federazioni di caccia le federazioni di caccia la DDA di tanto l'acqua e foresta tutti i santi qui erano d'accordo che se un progetto marchiare ha un capo di 15 o 20 anni il cervello sarà da poter cacciare l'acqua è sempre protetto è un GBA protetto ma se monta un punto dove i sguardo sono portenti massimo verso la costa orientale e se non si faccia qualcosa può essere un giro contrario di ciò che non vogliamo fare penso che adesso è una decisione politica adesso appena è legato di questa decisione sicuro adesso è legato ma io penso che si può giugno a fare come non si faccia in certi luoghi in continente di un'altra maniera se volete ma nei comuni concertate per il cervello se non c'è troppi cervello beh si faccia o si è una battuta ad amministrativa o si è una battuta in quel cacciatore del luogo e da 4 o 5 cervello così si calma tutto il mondo ma pensate che i corsi non accettano che i corsi penso che si se non si spiegano bene i corsi sapete questo è un po' come in politica se voi sbagliate la gente dopo la fine giugnete a avere il contrario di ciò che voi volete fare oggi è un po' più o si può stare così non si può mica stare così oggi ci sono i luoghi quando ci sono i disguasta ma importante e rompono anche poteste rompono tutto tutto e giugnano un lorte sbucciano i larbori come la capra sbucciano i larbori potrei accettare un caso di un po' vecchio che è morto qua tra 35 arbi che hanno mangiato completamente grossi arbi degli anni di 10 anni vedete dunque se non fanno qualcosa sia il parco mica io ma sia il parco e i differenti l'administrazione concertati non facendo qualcosa in si pochi anni e magari un affare può essere che non vogliamo mica allora ora c'è sempre un po' comunque fa un ritorno un dareto e bere giusto appunto come si utilizzano i corsi e come si sviluppati e come le campano allora vediamo questo film un cervo corso si chiama il cervo corso è differente da un cervo raffo di continente è più pigro più chiugo è adattato alla macchia di corsica invece che un cervo un continente fa 250 kg invece che di noi 130 kg è un bel cervo ma è ben proporzionato è fatto apposta per gli anni una macchia corso un corso che c'è da poi secolo e secolo parlano di 300 innanzi a Gesù Cristo è giunto un corso dopo il secondo secolo dopo Gesù Cristo sarebbero i romani che l'hanno giunto per cacciagliarlo e c'era dappartutto un corso c'è da sapere che lo c'era dappartutto anche verso i accio in agosto orientale dappartutto è stato cacciagliato questa la sappiamo dopo c'è stato l'urbanismo una volta che è obbligato a ritirarsi a ritirarsi andassero un po' con i luca un po' ruscanti per essere tranquillo ma dopo soprattutto è stato parlando la guerra parlando la guerra che l'italiano o l'alemani hanno cacciagliato tombano cacciagliato 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 ci hanno dato quattro cerve e abbiamo cominciato l'allevo c'era un mascio che si chiamava di scorrao c'era una vermina ninna e c'era escanone risse che era un ciugoletto e un'altra giovanna abbiamo messo in qua hanno richiuso i 36 ettari e abbiamo cominciato l'allevo così cacciagliato 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 non c'era bisogno di armi di scopo di arbitrarie da fare così sono se rizzano e di ogni anno con un certo tipo ma anche una mese di lundi o di luglio a sbucciare l'armi a sbucciare non cacciagliato quasi di legno, ciò che rimangono un po' di scorza dell'arbero. Verso un mese d'austo, il cervo si accoppia e ti ammonda ronche, incunito. Soprattutto nei richiusi, nella natura c'è un gruppo di cervo. Invece che nei richiusi non erano malevati, c'è un cervo che ha da impregnare tutti i venni, si chiama Abram. Il cervo ronca, è una maniera di spremarsi e di fare il più fiero, il padrone, tutti i venni. E' un casacca che non è neanche così parlante, perché se no, non so neanche ciò che nemmeno, ma là va. Ci sono delle battaglie meravigliose, certe volte anche a incricciarsi i venni e a morire così nella natura, attenzione. A Vemmina porto il gioco per 28 mesi, in principio, a parte da un mese di maggio, vedo giungioludo, facendo i giocchi, facendo i cervioli. Quando rinascono a Vemmina ha dato un piatto il cerviolo a poco presto 15 anni, nella natura. e dopo piano piano l'ha da portare a un cunido. Un cervo, quando non nasce, che sia una Vemmina o un mascio, ha da stare praticamente due anni con la mamma. Sempre lo stesso gruppo. Per questo è che quando non rinasciamo la natura, quando non rinasciamo la natura, e ha sempre diventato perché sappiamo qual è il ruolo di questa ronca, di questo cervo, in termini i gruppi, ma si spicca tanto, non sappiamo che i Vemmina, o in cui Vemmina è un Vemmina che quando rinasciamo il bravo. Qui c'è un cervo può essere, ma io come credo, ma preferisci i luoghi quando c'è un luogo di tarraggio, arborature e cose così, ma può campare anche in montagna, ci sarei certo perché campano anche a 2.000 e non è mica come la mufo, non è mica da più facilità a dispiazzarsi la natura anche una nera e a mangiare sempre qualcosa invece che la mufo è da volare in piaglia, è obbligato a fuggire non sappiamo mica dove andavamo quando abbiamo cominciato il saleo e finalmente abbiamo visto che è stata una riusciuta, ci sono le enti del mondo intero che viene una vera, giustamente come lo si è passato da lì e come abbiamo riusciuto così bene, dunque penso vieno di aver partecipato sul programma, mi è accaduto di passare i nottati da Retti di Cervi come l'ha fatta domenica, li suitiamo di notte, di giorno, passare per tocchi di mangiare, in durandana e tutto, gli ho passato anche due anni senza avere un giorno di conoscenza, per essere d'ora, ma Dio può essere differente perché è un appassionato, penso che si fa due intucchi appena qua, pura che ne dì, questi qui hanno fatto qualcosa, pago Allora lei mi parla appena di sto giro lì a montagna, sto giro lì a montagna, allora c'è l'altore, l'agula, proprio potremmo andare sul mare a bere l'alpana che Dio, vuolvi sapere, c'è l'alpana, sto giro lì a montagna, c'erano poche coppie, ma in altitudine, e c'è l'alpana qui, campare a mangiare ossi, in Spagna per esempio lo chiamano che brandter risorse, vuol dire il briser d'orso, un sciapare l'ossi, per mangiare, lo mangia mica altra fare, aspetta che tutto il mondo è se mangiato e viene e si mangia l'ossi, è l'ultimo a mangiare, è l'ultimo a mangiare, e ciò che faccia sparire, può essere s'animale qui in montagna, sull'agula, è che di più in più c'è meno pastore, non con anni più di che mangiare, e per questo per esempio nella nostra regione verso il sud, verso Bari del Rocho, c'è pochi pastori, e qua proprio è sparito, non c'è più che un solo... E adesso c'erano 10 anni in montagna, ora occupati, c'erano 10, ora c'erano più che 5, e non c'erano più che un, un c'erano più, un c'erano più, un c'erano più... 50% della popolazione è sparita, ora ci domandiamo perché, se la vena è di, che non mica abbastanza roba a mangiare in montagna, i pastori non c'erano più, e... E' delicato perché, se oggi, quando l'uomo sparisce, infatti, anche l'animale, si tratta di difficoltà, eh? Ma non ci troviamo mica questo affare, quanto a me, le patano le gambe, perché... le patano le gambe, ma non so mica se le patano le gambe, perché tutte le settimane... Li portano a mangiare? Li portano la roba, a mangiare, eh... Ma non è più un affare naturale, è roba che li portano in tutto il luogo... E' più, c'è due neri, c'è due neri, non c'è conacino, non so mica se una femma se lo macchino e due neri, c'è più conacino, da sesso uomo... E' ancora più, ancora più, quindi la schiena, quindi la schiena, coano... Tutti, hanno sempre vato l'uo e qui, non c'è mai stato io... Allora, quest'anno, quest'anno, contano i bia, l'uo, e mettono in cosa? Per... così... Acqua... 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 Un acqua artificiale, eh... Come li faccio in un continente, eh? Allora, sono collati, e quest'anno mi cavo a tuoi... In più, come non c'è mai che i giovani che sono nati? Cioè... La popolazione è tutta vecchia... Cioè... Cioè... Un'altra cosa è minacciata... Ah, è minacciata... E' il più bello del mondo, si può dire... Ma è... È meravigliosa... E' una meraviglia... Ah, io ho la città, dove c'erano... Tre metri, eh... Due metri e quaranta e due metri e ottanta... Ma... ma si vede... Si vede in montagna, quando li vede? Si vede, poi... Si vede, poi... E' una cura speciale... E poi... E' raro che li vattene in là... Piangano, eh... Si guidano di corrente, eh... E' facile conoscere... E' bianco, è bianco, è altra cosa... Un po' appena... Ma... Dimmi una parola altra... L'acola... Ci vedono l'acola montagna... L'acola si porta meglio? Da presto a cercare un teso... L'acola... C'è appena più di trenta coppie... Eh... Si... Ci sono le maioni... Non l'acola, eh... E' appena più di qui... Che... Che... Che ho... L'antore... Un metro e trenta... Un metro e cinquanta... Se le 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 le... Sì, lo... Sono entrato in linea... Per questo momento... Immaginiamo... Un metro... Questi... Un metro... Meryem... C'erano le coppie... E' un metro e... Mi sono entrato... E c'erano le 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 le... L'hanno recuperato le 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 le... E... Andiamo... E sont mica... E hanno portato le barche... E li vedevi per analizzare... E... Siamo... E' che è diventato là... Si... Flemmmo in un lago... Eh... E di le 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 le... con la mamma mia per l'acqua e per l'alto ma io penso che se lo c'è nemmeno di tutte se sceglie di montagna e di no che invece c'è poco allevo e di più in più poco a enti che facciano i pastori e cosa c'è meno animale in montagna non è più da mangiare dopo quando voi portate a mangiare l'animale non è più la stessa affare l'abituato a un modo di campare non è più lo stesso che la natura è una piunuta veda dopo una volta mangiare metà della roba non è più la stessa fare l'abituato non è proprio un mese signore ma qui avevo un mese quando lo signore non è mica ve, per i movi, per i cervi, per tutto il mondo i pastori nei tempi mettiano i fuochi sappiano mettere attenzione sappiano mettere controllare il suo entimento che l'ucceva faccio che c'erano i luoghi che erano picciati e potevano pascolare e poi non bruciavano mica tutti i stessi luoghi cambiano i luoghi faccio che qua passate in certi luoghi siete capati a trovare i movi in cui un mucicchino non è più bello non è più un mucicchino sapete perché a forza di poter cercare a mangiare a mezzo al tuffone a mezzo di cose così si pizzicano si pizzicano e inguignano più a mangiare e l'acane si luca e se ne vanno all'altore oggi si può dire che è liberamente minacciato l'altore penso che sì non devono più che cinque coppie allora facciamo tutto per tutto per questa valle allora a questo punto abbiamo visto questo film che l'abbiamo fatto con franzi rombaldi e pascuali alessandro e bocchi anni fa e quindi mostriamo oggi l'altore tocchigli l'altore di corsica il principio barca se me che se tu l'hai conosciuto era un tu un coppio di ente che si chiamavano deras se guidano oggi parte così qua gli ho conosciuto l'agisto andava alle ascovi hanno fatto anche un film andato all'altore e così che gli ho conosciuto l'aello e dopo quando noi andavamo quella e ci facevano ore l'animale e tutte le dolorie e tutto e invece diciamo l'altore che è un maschio di dell'acqua e così cagliu invece che era tutto contrario non mancano mica gli stessi un buono mica gli stessi c'è l'acqua e c'è l'altore non conoscevamo mica cagliu da un nasco che guiderà se è entrato parco per sabella con l'acellone facendo anche due metri e quaranta e due metri ottanta abatto non rende angelo e faccio base un metri lungo così gianco sotto capire con le bocchie mostacce accanto al pizzico e in quattro cinque anni sono spariti quattro cinque coppie o ne ferma più che dice a ne sparita anche cinque perché c'era dice coppie a 2008 a 1 è sparito cinque coppie 30 conto cinque coppie in pochi anni così in sei o sette anni e lui hanno a due e hanno sempre le stesse cose sempre insieme un coppio tagliato un affari quanto dopo o di un uomo quando lui nasce sta due o tre anni qui parenti e dopo si ne va si ne va a gira a gira e bota donna con della sei o sette anni e tanto come c'è fa accoppiarsi e fa un uomo un uomo e fatto un uomo e tutto 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 cosa tutte le ranche reti è secque e rende più abbastanza alto e ora sai dove li vanno a gira e sta prendendo li vanno a gira e sta prendendo li vanno a gira e vanno a gira foro ai vorresti è in montagna dell'alpale ci so e rende davanti e tutto questo che li vanno a gira sai per farci dentro ma come dopo c'è c'è un uomo qui sotto non sotto e mica ed è andato a sti o tre anni qui so mica se ne in 2003 sono 2014 c'è stato quattro coppi che hanno guardato quattro e ora ne sotto i due io ho bisogno che si deve andare in altta montagna c'è una gira lì eh 5 ora su biote la famica io ma 3 su biote buono 2 c'è una gira soli l'astrocio l'antra un giorno c'è una gira soli l'astrocio l'antrinio un giorno a gira soli mcfa 7.5 coppi e capa la montagna agira e cercano il Il vaschiccio è l'idrono, prima il vaschiccio è l'antivaschiccio, l'antivaschiccio è l'antivaschiccio, il gombo rende gombo e l'acqua. E lui passa sopra, gira, si chiede a un amico, fa l'amico, e lui lascia a mangiare e dopo all'ultimo giugno è la nittà. Dopo via l'osso, un gollo a un cinquantino cento metri altra e fai l'acqua per l'anticiappare. Dopo quando va l'anticiappare si sciappa, si diventa un pezzuccio. E lui va e si via l'osso e tutto ciò che c'è. Gli chiamano apposta lo sciappa-osso, lo cassiardosso in francese dice. Allora li andiamo a mangiare tutte le settimane, li portano a mangiare, ma non è mica la stessa, capisci? Allora li lampano l'osso, li lampano l'antica, ma c'è l'opio che puoi piare l'osso per lasciare la pezza, sai che l'antica l'osso vengono sempre a prendere, li puoi piare l'osso o di trecina, dopo è li puoi non fanno di gno quando li si gano, cioè li possono ripartere. Allora il pastore non c'è più, lo poco che c'è, ancora più montagna, si stavano delle pieghe, non so che le hanno le vaccini tutte, i becoli, i capri, i vaccini. Allora cosa fare le prime le chiedono a noi, so che cose, perché hanno sempre proprio i controlli, per le prime. Dopo montagna, non ne montagna più, io vengo in domina chiesa, in domina chiesa i stazzi che c'è, in domina chiesa i stazzi che c'è, tutti e tutti, sono tutti e tutti, manco mangiato, non so che fanno sempre i capri serbatici, fanno le vacche, fanno le piccole, c'è sempre i vaschicci che fanno. Allora, ci resta parla di un altro cielo, ma io di Agorsi che c'è l'alpana, le belle pizze a pesce, allora, Jean-Marie, tu si è stato caricato un scandalo per provare a lavorare e salvare il cielo, l'alpana è stato castigato 20 anni fa. Più di 20 anni, 40 anni fa, c'era un grosso problema per portare la conservazione di stageli e il bar regionale ha messo in piazza una buriga di gestione di stageli, è stato fatto un lavoro forte di conoscenze di stageli, ci sono stati messi uomini per guardare come si comportava, come si va a fare il niente, quali erano i problemi che arrivavano a smarrere il stageli e dopo 10 anni è stato messo in piazza una tecnica per costruire gli artificiali per confortare e rinforzare la popolazione. Quanto vuole morire lì? Allora, negli anni 1970 c'erano due coppie della barca occidentale di Agorsi, dove la riserva di scandalo, e per rapporto a questo, il bar regionale con le stageli hanno messo in piazza un affare di gestione di un territorio che si dà una riserva naturale, una riserva naturale di scandalo. E da che è stata messa la riserva naturale in piazza sono state messe in piazza misure di reglamentazione per rapporto al gel, per rapporto alla vicinanza, al fatto di s'abbiginanza di l'agile, di mica va a foto da vicino, di mica basta vicino a quei vatelli, di mica i rangialli. Ma perché sparì? Perché sparì? Perché c'era 6 enti che s'abbiginanza di troppo vicino, certi andano anche a Pialoa, nei neri per fare le collezioni ue, e poi di tutti i luoghi di Mediterraneo e l'uomo tirano l'agile e il belbussaro era tirato assai in Sardegna, in Diozuda, in Africa del Nord. Ma c'è un agolo là? C'è un agolo marino che è veramente specializzato per il mare, mandare il pesce, pesca, azzon manere di bisca, a vage, in mare, in dei viumi. Il mare con delle tropografie, si ne ha un dei loro abritati, in dei viumi, in dei uarax, è adattato per portare il pesce, per mandare. Non ha bisogno che di pesce, non ha bisogno che di pesce, pesce o iu. Purtroppo c'è mille chilometri di costa, in cui è un camicolo mare in Corsica. Allora, ciò riconosce che l'inguerno è un luogo tranquillo, ma le stade, già sai mondo, gira a Corsica. Le pesce sono mille chilometri di costa, ma le stade, tutti i golfi piccoli e grecchi, c'è battigli dentro e che dirangiano l'agile. E dunque è obbligato ad andare a pescare, il pesce è vicino agosto, non è mica al largo, da pescare, il mare è poco profondo, e il mare è poco profondo, c'è niente che si bagna di dieta. Un nemico come l'agore d'altore, è un nemico sempre in Corsica, l'alpana. Allora, l'alpana è un agelo che viene a riprodurre in Corsica, a fare che qui, a parte un mese, a vini verrati all'entrata di un mese di marzo, e si riprodurre, se non è qui in Corsica, se non viene l'uio all'entrata di agosto. Dunque, è un bel riozzo dove c'è più diente in Corsica. Allora, Oio, il vattore è salvato, oio, quanto ferma gli animali? Allora, da due coppie dell'anno 70, ci si muove, più di 30 coppie da Gabigorso fino al Golfo di Aghiaccio. Sono sortiti in scandalo? Sono stati vatti otto coppie in scandalo, la popolazione è stata rinforzata da eruio, e dopo il barco regionale ha messo in piazza una tecnica per allargare la popolazione per il nord, per il Gabigorso e per il sud, per il Aghiaccio con freddo niente artificiale. Allora, il vattore è che lo sia tanto c'è lì, oggi c'è un altro problema, visto che hai dei due coppie di oggi i turisti che giugliano, come fate per regolare? giustamente, se siamo tenuti a riservare i scandali, erano troppo pochi, e l'arrangeamento della frequentazione turistica avrebbe fatto smarrire se si aggeli. Oggi ho fatto che abbiamo allargato la popolazione da Gabigorso fino al Aghiaccio e una sicurità e oggi l'abbiamo reintrodotto in Italia di nuovo di una sicurezza, una sicurazione di una popolazione di Gorsica, ho fatto più si allarga sicuro. Infatti, i italiani hanno avuto i gervi all'Ampana. Come ha detto Francesco, l'Italia ha avuto i gervi e noi 40 anni dopo li abbiamo l'Ampana che hanno mancato in Italia dopo 60 anni. E quanto conosceria Maravillosa? E' un scambio tra l'Italia e la Francia e la Gorsica. Si può capire che noi prudere e la natura c'è un affare maio per la bene. Prudere e la natura c'è una mica frontiera. Quando io lavoro in alta riserva di scandale, posso travailler all'Ampana, posso travailler in Italia posso travailler in Sardegna. Dunque, c'è mica frontiera. Una dorsi gestisce senza frontiera. Allora, Jean-Marie, ti prego di andare in scambio, con il franziano di capace di denture e stebiate e di ezzene di scambio per filmare questo giallo e mandare a questo film che ne ho mostrato le poche anni fa. di un agelo che è presente per tutto del mondo, in America, in Europa, nella parte orientale del mondo, è assai presente. Ma la particolarità di Corsica è che c'è una piccola popolazione che viene a riprodurre in Corsica. È un agelo che sta vicino al mare perché bisogna i pesci che lo mandi perché lo mandi è che pesci e per rapport a questo tempo si può spiazza dei viumi sull'interiore di Corsica dei warraggi dei viumi e della fare così. In 1975 si sta dovuta riserva ad ora e il primo obiettivo di riserva era di conservare di brodege o l'alpana. Il Mediterraneo si spiazza par rapport a questo tempo quando è bello tempo e che è la perioda di erano corrisponde alla perioda di riproduzione. Il primo che è in Corsica per riprodurre è il mare. Il mare è cheio di unio e normalmente si sta in unio e la prima cosa è di far bene a un moes a vemmina e per far bene a vemmina fa una barra di nuptiale quindi un pezzo che lo pesca sotto unio colo assai in alto sopra unio sopra il luogo di riprodurre e faccio girare il luogo per attirare a vemmina un pezzo un pezzo per far bene che è pronto a costruire una gasta per riprodurre ozoni è un regalo per a vemmina come l'uomo quando lo faccio un regalo per una una per maridarsi gli porta un anello gli porta un bel regalo fa attirare a vemmina per riprodurre fai giovello fai giovello fai giovello fai giovello un po' giovello un po' giovello veramente soffice per due a vemmina da valore una volta che c'è l'accoppiamento di un macchino a vemmina due o tre giorni dopo a vemmina va a giovello cominciano a obbligare e ne può fare fino a tre e quattro da che l'ha fatto obbligare cominciano a cuore si stracca l'antone e cominciano a cuore e l'incubazione di l'uomo dura 37 giorni e tanto quando li nascono stanno sempre alla grotta sotto a vemmina perché sono sensibili l'allevamento di borgone dura sino all'entrata la prima quindicina di un mese di giugno e un macchino che assicura di mangiare per a vemmina e dopo quando li nascono i borgone assicura di mangiare di borgone allora va a pescare porta il beso prima li manda il gabo e a so parte un'altra che l'ha mangiato il gabo di un beso porta il beso a vemmina e tanto a vemmina più il beso e si ne va mangiato il bigino fuori di un mese e tanto il macchino rimpiazza a vemmina che c'è ancora nante un mese ma quando li nascono i borgone lascia il beso nante un mese a vemmina lo spezza spezza il beso li spezza per spezza il borgone ma un sceglie mica qua lo ha presente il beso il più forte bene a mangiarlo il primo più grande che è più grosso che il secondo e il secondo è più grosso che il terzo e il primo assai più grosso che il terzo e il primo che è più grosso ha più forza per piedi o beso e per i chi manda l'astro li mena in capo e anche senza minare per muro perché un giugno che manda a mamma l'intervento di mix dice di a selezione naturale a pepiscare l'alpana ha un stinto mandare il pesce e la prima cosa è di di puoi bene o beso sotto il mare una volta che l'ha visto o beso e prova di vedere a che profondura si trova si scarta giro i randi giro i bicchi giro sopra o beso che li permette di bere a che profondura si trova e una volta che l'ha che l'interessa si la lampa nel tuo beso e rinfiere in un anzo e tanto entra a piedi o beso che rinfiere una volta che la piedi o beso fa un sforzo assai importante per sortire l'acqua e da che le sortire di là si scartola per far parte dell'acqua che per lei non pesa perché si sape che l'alpana pesa mica i più che 2 ghiro e una volta che è in bo si scartola e ripire l'attitudine per andare prima di mandare il suo beso se la riproduzioni e dopo di portarla a un uo a 20 mila i più coni i più coni i più coni in grande posto che li mandano in grande si può sapere ma quello che campa a un montoado dopo a 8 settimane è pronto a volare quindi batte a sai l'ale si entra il muscolo e l'ale e tanto li portano il beso io perché non parla a sapere se che è il beso per farlo parte perché a un montoado li portano sempre il beso l'antonio sarà sempre l'antonio si mettono vicino l'unio il beso li facciano e tanto quando le famiglie si lampano l'aiuto per andare a mangiare e tanto se lo buona buona e assolutamente casca a per compiere questa spazzigliata nelle montagne e nei mari di Corsica, abbiamo l'ultimo invitato con un amico, un impiegato di un barco di un pastore d'asco, che ha campato qui, Fransi Mercurio, anche Boedo. Fransi, allora ci ricevi qui nel paese, ti ringraziamo. Tu vuoi, hai sempre campato con tutti questi animali? È sicuro, a giugno, a quelle montagne, quelle muvure, quelle alftore, quelle lago, e via, i muvure, tanto girano, non so, ma tanto girano. Ma quando girano le vande, capite, e becola, si radigliano, senza una baggio di cani, senza una niente, si radigliano, ma se ne vi apparecchiano, si viano, i muvure girano tanto. E dove c'è comunque, i cacciagliano, chi ha i cacciagliano? I cacciagliano, ai tempi, ai tempi, c'è un teso vecchio, verso il 19e museo, così, ne fecero un camiciscia, amiciscia, mufrina. Amiciscia, mufrina, amiciscia, mufrina. Carne secca. Carne secca, carne, 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 non so come dire in francese. Saida. Amiciscia. Amiciscia, amiciscia. E dopo, dopo ci va a dire cose come le so, non ci va mica, non ci va mica, non ci va a trattarsi, tutti qui, qui, in New York e altro, e giocavamo con un po' come segno e muvure. Quindi, no, vado a dire. Quando c'era musica dell'anno, è sicura, abbiamo i fugi di vero. Dicchia era appena l'ignoranza. È sicura, abbiamo i fugi di vero, per provare i fugi di drammo. Non c'era mica sti e protege a Natura, tanto. No, 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 tanto era così, era tutto così. La Natura, dopo che era un affare, era protetta, era protetta da quando i capi, come ha detto Francesco Anzora, da quando i capi, da quando i pego, mangiavano la macchia, bucchiano, e tanto, dopo è cresciuta la Natura, è cresciuta la macchia, sono smariti i pastori, e i pastori, come vogliono, aiutano la Natura. Perché quando erano i pastori, l'acqua mangiava i vaschicci, i capi, le pegole, a volte non mangiava, tutto questo era un ecco di natura. L'autore mangiava la rossa, mi ha detto Francesco Anzora. Dunque era nel clip, quando è sparito i pastori, si è tutto salvato il dito. E si è tutto salvato, a macchia abbondanzata, manca un denunce nera, allo per queste montagne, ai muri, mi ha detto Francesco un po' di più pace, e dà la macchia. Prima era tutto buito, la capa spunta, una speranum. A macchia è verano caccia, la guria è caccia, è verano caccia. Le è spuntata, oggi e domani, tutti i giorni, tutti i giorni, un pesagapo, questa piatta, un po' di più di questa, si metteva qualche fuoco, ci andavamo qualche fuoco, non mica... Puriate? Puriate, puhiamo, puhiamo, bué. Boh, non era mica lontano, non c'era mica tanta macchia, un po' di più andata lontano, bué, poi cercano di mettere, quando il vento non era mica troppo forte. Allora, chi era? Quando hai giunto il barco regionale, nell'anno dei settanta, hanno detto sulla prudice, chi gli è stato stupare a voi, a scherzi? Eh, 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 le ho visto un po' di cattivucce, ma, oh boh, co, co, questo è un po' di cattivucce, a dire cosa mi piaceva mica, mi piaceva mica. Ma fino a che dopo a lunga andata, ci abbiamo messo un camaconale che ci ha protegghi. E ti capito? E abbiamo capito che erano qui e ci ha protegghi, perché ai tempi, anche l'acqua, ne avevamo, noi, anche l'acqua, ne avevamo, e non era mica nemmeno a fare piatto. Poi c'è un par di muonio che lo fanno poi? È sicuro che un par di muonio, è un amore nemmeno a fare, è un pò, è un pò, è un pò che è venuto a un cerco, allora sono due, qua. qui non è mica c'è il rumore, perché è l'alta montagna qui di ciò, e poi c'è la ferla qui, mi starebbe che non è la ferla e lo campi allora qui giusto appunto, tutti questi arcelli, che sguardo hai oggi di la Corsica, della natura, questi arcelli, che sguardo hai, c'è un po' edono, che sguardo hai in altra natura? hai un sguardo, hai un sguardo un po' negativo, andrà la natura, andrà la natura, è tutto macchia, prima era tutto buito, e si vuole quella suona, al tempo era tutto buito, c'è un ripiato, era buito come qui c'erano l'uomo, c'erano l'uomo, c'erano l'uomo, sposai udano l'uomo, c'era un'altra mentalità, l'uomo domani quell'anno per un chiasso, un pastore con l'acqua, su un muo, su un mere, arrangiava una chiappata, si cacciava la sua sacchetta, arrangiava la chiappata, non mandava un lanimo un mare qui, un amico, ma ricorda, si conosceva, era un sedillo, quando erano in un chiasso, avevamo una chiamata a un paese cristiano, erano 7-8 uomini, l'uomo, erano da altra gente, si aiutano, era fatta così, aiutano, giugliano le galle, arrangiavano le chiappate, le fontane, e qua non c'è più nulla, tutto è deserto allora, beh, compiaci, poeto, vorremmo forse sentire una piccola passata da un altro paese ma prima ti posso dire, quello è l'autore ah, sì, tu puoi, allora, di che c'è l'autore? allora, l'autore ha detto all'acqua, o signora Aquila, seiato cattivera, mi mangiavo a cacovigella allora, all'acqua ha risposto, o signora, seiato forse signora autore, mi mangiavo a cacovigella allora, la vallata, qui per puntano il paese, rimirarevo da regione, piazzarevo Musa Cortese, dobbese del cannone anche ben posizionato, che dal monte è ancora nato allora, ecco, abbiamo una valla poesia per compiere questa missione tra gli animali corsi gli animali sono preziosi, tenetene conto, saluto a tutti grazie a tutti grazie a tutti